Con noi Mr. Taffra, oggi sarebbe passato un punto per superare il turno in Coppa Italia, purtroppo così non è stato. Si qualifica alla Fulgo Rock Italiano, che cosa è mancato oggi alla Salernitana? Direi che non è che è mancato oggi, è mancato un po' di partite, purtroppo non riusciamo a descrivere il gioco sia in possesso palla sia in fase di non possesso. Siamo troppo leggere quando non abbiamo il pallone, non abbiamo personalità quando abbiamo la palla nei piedi, purtroppo è un periodo e spero che passi in fretta. Una partita che ha visto più volte la Salernitana rincorrere la futsal nocere, qualche volta c'è riuscita, ha recuperato la partita. Da cosa ripartire allora? È soprattutto un problema mentale per la sua squadra o da cosa dipendono questi risultati? Una bella domanda questa, purtroppo quando capitano questi periodi trovare una risposta non è mai semplice, noi cerchiamo di allenarci sempre per bene, sempre al massimo. Io su questa alle ragazze non gli posso dire nulla, non so se è un problema mentale, un problema fisico, non lo so, ne parleremo in settimana. Io una mia idea ce l'ho ma giustamente non posso dirla davanti alle telecamere. Ringraziamo Mister Dino Taffari. Ringrazio